Buongiorno ragazze, io sono fuori, sto andando dalle Rois Marlen perché mio marito deve prendere un'antenna ma io ne approfitto per andare a sbirciare sempre qualche cosina, sapete ci sono delle piante stupende dalle Rois Marlen quindi sono fuori, ragazze mi vedete senza trucco e senza inganno perché mio marito quando appremura appremura, quindi una doccia al volo, mi sono infilata un vestito e quindi ora stiamo andando là c'è una giornata splendida, vi faccio vedere adesso il cielo ragazze guardate che cielo azzurro che c'è, non c'è una nuvola, una giornata splendida ci saranno almeno 30 gradi, bellissimo quindi da andare al mare Dice lo chef odore di scirocco allora raga, mi sono già scordata se vi ho detto perché ho registrato due pezzi che stiamo andando dalle Rois Marlen perché mio marito deve prendere un'antenna io invece vado, vi faccio vedere, sapete là ci sono delle bellissime piante poi c'è molto arredamento da giardino quindi adesso vediamo che cosa vi posso fare vedere anche di novità di mobili da esterno ci vediamo lì allora qui sono nel reparto portafoto, quadretti perché in effetti io poi alla fine ne ho tantissimi ma sono sempre attratta e guardate che meraviglia vi stavo dicendo ragazze guardate che meraviglia questa cornice tutta sbrilluccicosa quindi potete scegliere di fare la cornice come volete voi per esempio mi piace anche questa, guardate questa pure tutta luccicosa e mi piace molto questo dorato però vi devo dire che qui sotto io ancora non la vedo adesso cerco ragazze guardate questa è la mia carta da parati che ho in camera da letto che naturalmente ho preso qua c'è ancora, ancora in produzione bella, mi piace molto anzi vi dico pure che è aumentata, è 31 euro quando io l'ho comprata costava un po' meno ragazze io da tanto tempo voglio comprare questo genere di tappeto però la misura che voglio io non è disponibile guardate che bello anche questo questo costa 44 euro, guardate che bello però io volevo delle misure più piccoline non ce l'hanno, non sono disponibili non ce l'hanno, non ce l'hanno, non ce l'hanno